The Endless Paper, nonostante tutto il digitale avanza, purtroppo c'è questa parola nonostante, c'è una spinta creativa, dinamica al cambiamento digitale che è un'onda d'urto che ha trasformato radicalmente le nostre vite ma non è ancora abbastanza. E purtroppo uno dei temi, dei nodi cruciali è proprio quello delle competenze. Il problema delle competenze è abbastanza grosso perché non viene affrontato, finché non viene affrontato a livello di sistema. Un dato che riferiva all'inizio del convegno Andrea Lisi era proprio dato al fatto che la maggior parte delle aziende pubbliche non si sono uniformate con il protocollo informativo. E questo è un problema anche di competenze, sicuramente è un problema di sanzioni ma è un problema che dobbiamo affrontare dal profondo perché è la cultura digitale del paese che deve essere costruita. E deve essere costruita partendo dal basso, sapendo che noi abbiamo un terzo della popolazione che può dirsi alfabeta, digitale, funzionale, ma tutto il resto o non va su internet per nulla o se ci va non è in grado di utilizzare i servizi più semplici. Quindi anche le professioni le dobbiamo costruire basandoci su uno zoccolo di competenze digitali, di consapevolezza digitale che deve essere patrimonio di tutti. E per farlo non possiamo farlo in modo improvvisato, dobbiamo farlo in maniera organica e sistematica partendo da framework che iniziano ad esserci, uno di questi è il framework europeo Digicomp, su cui noi dobbiamo costruire dei percorsi di sviluppo delle competenze che magari sono differenziati rispetto ai tipi di attività, di età e di culture di partenza che si hanno, ma che deve essere la base comune su cui poi si costruiscono le specializzazioni rispetto ai diversi lavori. Se però non abbiamo come Paese l'idea che questa sia un'emergenza, che questa sia effettivamente un'ossessione che tutti dobbiamo avere per riuscire a capire come può crescere la società italiana e si può effettivamente effettuare una crescita digitale, che probabilmente non riusciremo ad avere nessun risultato dagli sforzi e dai programmi di digitalizzazione che magari sono in questo momento in campo. La Costituzione degli Stati Generali dell'Innovazione risale al 2011, quindi sono passati già quattro anni. Che cosa è stato fatto dal gruppo di lavoro? Qual è la spinta al cambiamento che voi portate al sistema Paese? Quali sono le principali leve di cambiamento che proponete o i vostri principali progetti? L'associazione nasce come meta-associazione, quindi associazione di organizzazioni impegnate sul campo dell'innovazione. L'idea di base è che queste associazioni, queste esperienze di fatto che ci sono sul territorio, sono già molto avanti e hanno già molte idee strategiche da poter mettere in campo. Quindi l'idea dell'associazione è quello di fare in modo che effettivamente si faccia sistema, perché uno dei problemi grossi dell'Italia è che ci sono grandi eccellenze ma anche grandi isole poco comunicanti. Quello che abbiamo cercato di fare in questo periodo, in questi anni, è stato quello di avere diverse aree di azione. Uno nei confronti della politica, delle istituzioni per essere pronti, per spingere ma anche per dare supporto e collaborazione, lì dove c'erano decreti piuttosto che leggi che dovevano essere promosse. Abbiamo promosso quella che abbiamo chiamato consulta permanente dell'innovazione, dove più o meno due volte l'anno si riuniscono gli stakeholder di tutti, sia privati che pubblici. Ed è un luogo che in Italia manca, cioè un luogo dove possano sedersi tutti quanti i principali ste cose per ragionare insieme, dai cittadini alle imprese. L'altro è stato quello invece di fare diffusione, quindi formazione, mettendo anche in risalto alcuni dei problemi forti come quelli della differenza di genere, per cui è stata costituita anche una rete che si chiama Rete Wister che raggruppa 500 donne che sono impegnate in modi diversi proprio per dare il loro contributo prima di tutto al superamento delle differenze di genere nel digitale che sono enormi. E dall'altra parte abbiamo invece cercato di fare anche delle attività di razionalizzazione di queste esperienze e quindi abbiamo anche prodotto degli ebook che vanno dalla strategia generale ma anche l'ultimo che presenteremo a novembre è sulle parole dell'innovazione che un politico non può ignorare. Ed è uno dei punti su cui cerchiamo di fare innovazione ma soprattutto il punto di vista che cerchiamo di trasmettere è quello che se riusciremo a fare qualcosa lo faremo insieme. L'avere l'orgoglio della piccola associazione, della piccola categoria può essere buono per un discorso di breve termine ma in realtà poi il risultato finale non lo prenderemo nessuno. Grazie allora per questa contribuzione e buon lavoro.